Ciao a tutti ragazzi, eccoci in questo nuovo video di Maintest con Mazzetess Oggi il mio obiettivo sarebbe quello di costruire una piccola casetta qua per la zona dell'orto E quindi per prima cosa credo che potremmo farla Credo che potremmo farla in questo spiezzo qua Invece questa terra che non è male, è una volta pulito Quindi iniziamo a mettere questo Questa settimana non caricherò il video di Flare per problemi di tempo o per problemi di computer Come magari potete aver visto su Facebook o nell'altro video di Zero AD Ho dovuto formattare il computer e quindi ho dovuto perderci un po' di tempo per ripristinare tutte le impostazioni E per questo ho dovuto pure rifare un po' di casino E' lo stesso motivo per cui qua sopra vedete che ora è la versione 0.4.7 Perché ho dovuto aggiornarlo perché era compilato e non potevo installare l'altro Ho detto vabbè a questo punto facciamo che metterci la 0.4.7 Tanto non dovrebbe cambiare, non dovrebbe influenzare il funzionamento delle mod Da quello che ne so io Niente abbiamo già finito una zappa, una zappa? No, una pala Queste le ho messe poi a posto la scorsa volta Dopo la fine del video se non sbaglio Oppure no Però Sì sono asimmetriche Dovrei metterne un'altra qua giù in fondo Ma non avevo più Copper Non avevo più Copper, giusto? Corrisponde il vero? Proviamo No Copper ne avevo, forse ne avevo più ferro No, ferro ne avevo Perché non ne ho fatta un'altra allora? Ma ci pensiamo dopo Ci pensiamo dopo Allora adesso abbiamo bisogno di una tappa Di una pala abbiamo detto Anzi facciamocene pure due Formace Gli stecchetti ce l'ho Iniziamo a mettere gli stecchetti intanto Perfetto Ora andiamo a togliere questo Questa terra Ehm Mi scuso ancora per il video di Gerodico Caricato Mercoledì Ma è per il presunto ritardo di questo video Perché lo sto registrando Proprio all'ultimo Per problemi di tempo Questa volta Temo che si senta il rumore Aspettate che vado a chiudere Ok, perfetto Mi sembra che sia cambiato anche il suono È normale Che si è cambiato il suono Nel Sulla terra Se forse si Forse l'hanno cambiato Vabbè se quella terra non mi era indispensabile Toglierla però Va meglio così diciamo Ok, allora cosa potremmo fare qua Potremmo fare una casetta con del legno Dima un attimo Questo legno Com'è? Si comporta bene questo legno? Proviamo un po' Legno di Birch Quello che piacciono Mmm Di prima occhiata non mi sembra un gran che No Io direi di no Anche se ne abbiamo un sacco qua intorno Direi di no Vediamo cosa c'è qua intorno Anche di albero Che potrebbe essere interessante Sono tutte Birch Birch, Birch Com'è? Uh Quello è un Jungle Tree C'è un Quel ci serve per la gomma Quindi io direi che andiamo subito a prenderlo Anche se in realtà dovremmo farla a casa Si lo so Oh c'è una spiagetta qua sotto Bella Non sono andato molto lontano Shift Per non volare giù Ah che ridere l'ha messo sopra quello Si è proprio questo Mi ci serve E allora Speriamo che non butti i stapling giù di sotto Però E se non sbaglio dovrebbe darsi del legno normale Se tutto va bene Infatti E perfetto Mi sto dando già dei Degli alberelli Uno lo rimettiamo qua per estetica Perfetto Tre Ancora altri? No? Vabbè Niente Allora facciamo che Tornano in là e vedere se troviamo qualche albero interessante Quello lo mi sembra di non averlo mai visto Non so che albero si... No si sta facendo notte Non bene Non bene Non bene No se lo torniamo a casa Da che parte Da che parte Da che parte di qua Credo Ecco c'è l'orto Si lo riconosco Ah eccolo Perfetto Ok Si apre Ok No non è andato a dormire Oh si Si Ah no è vero Perché ho nascosto la chat Rimane degli errori prima Allora Ho deciso che forse era meglio chiudere Cioè nasconderla Per Non riempire di schifezze qua Che bello il sole che sorge L'ho già assorto da un po' Comunque qua c'è niente Una caverna Ma di alberi interessanti Uh ecco questo Questa è una sequoia se non sbaglio Che è enorme Una volta mi sono messo a romperne una Dall'inizio alla fine ma Ci va un'eternità e mezza Poi ho deciso che forse era meglio Mettermi la mod del flint steel E le ho dato fuoco Salvo poi un lag immenso Perché c'erano delle Fiamme che non finivano più Perché non sembrano le fiamme Che erano un sacco di lag Infatti anche in minecraft Quando si va nel land E Il framerate scende di parecchio Vediamo un attimo Con il legno di betulla se Il legno di sequoia se è più carino Già mi piace di più Perché comunque si accosta meglio Con il colore della terra E se non fare tipo Una cosa un po' Inframmizzata Ma credo che sia una malissima Una con l'altra Sì infatti fanno proprio pugni No brutto brutto via Se no potrei farlo Tipo un gazebo Se no una casa chiusa Cioè una casa chiusa nel senso Sì vabbè ci siamo capiti Tipo con delle fence Proviamo Tanto di legno qua ne abbiamo No 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 Questo è per un Per Minecraft Allora Proviamo a fare Tipo così È giusto qua No Infatti Questa è un po' più avanti E meglio Così 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 Farne un altro piano E poi si può mettere i blocchi interi Però non so come i blocchi interi Stiano bene Dovrebbero starci bene Delle slab Ma di questi legni qua Dubito che ci siano le slab Infatti Di questo Ma no Che fiamme Infatti Nulla Facciamo così Oddio in realtà che queste fence Qua di mind test Mi piacciono molto di più Di quelle di Minecraft Sono più carine E vediamo Se ci mettessi Il tetto Così Se fosse un po' massiccio Il tetto Così Però non è male Forse un livello più alto Però Un livello più alto Sta meglio Questo Il tetto È invece bruttissimo Questo qua È proprio Proprio brutto E adesso viene il bel Perfetto Perfetto Ok Che pro Che pro mi faccia No Mi stavo già troppo gasando Ecco Infatti Ecco Poi qua Devo mettere Ma che scemo Tanti casini Per niente Poi questi Vanno tolti Comunque E li mettiamo Quassù Forse sì Non è male Perché mi sta venendo in mente E farlo tipo Una continuazione Di Quel No Mi piace di più Così aperto Però questo No Non ci sta E sotto Lascia la terra Sì Mi piace Sì Però il casino Che secondo me Su questa Non cresce più La terra Non cresce più L'erba Perché qua Bisogna di avere Luce Per poter crescere Non è come In minecraft Che hai bisogno Ti basta avere Un pezzo d'erba Vicino E poi si espande Se non ha luce Tendenzialmente Non si espande Allora quindi Facciamo che Fallo così Perfetto E andando a prendere Delle altre cose Di sequoia Dov'è che era la sequoia Tra l'altro Di qua No Una sequoia Ma forse Non era la stessa Ora ci sono anche Degli altri Sono degli alberi Della giungla Quelli Tre Quattro Cinque Sei No Credo di che ne Bisogna di Sicuro di altro No Quanti ne ho Undici No Credo che dovrebbe bastare Facciamo così Perfetto Decisamente Meglio Però non mi convince Tanto l'accostamento Fence Pegno di suo cuore Non mi Ma sì Ma se ci sto Bene Credo di aver mancato Il punto giusto No Perfetto Perfetto Ma è andato meglio Ma no Ma questa è una presa In giro Dai Adesso andiamo a cercare Dove c'era Quell'altro pezzo Di sequoia E vedete Qua non c'è ombra Quindi non cresce più Non cresce più la terra E l'erba Non voglio rovinare L'albero Quindi arrivo Su in cima E ne tengo un po' da parte Perché tanto mi servirà Per finire l'altra parte Che adesso non ho messo In giù 3 2 1 Ok Niente Mi mancava l'ultimo pezzo Che Che feilloso Qui ci sono tutti i cacti Mi fa sempre strano dire cacti Potrei anche raccogliere un bel po' di roba qua Quasi tutto a posto pronto per la raccolta Siamo in estate in fondo Quindi E' carina anche la moda Non so se l'avete mai provata Delle stagioni Alice volevo metterla Solo che poi E' giusto qua Sì Solo che poi era Parecchi pesante Quindi ho deciso che Era meglio di No Non so se crescerà Perché c'è l'ombra dell'albero Dan Dovrei metterci tipo una torcia sopra No No Non un pezzo di legno sopra Anche qua posso mettere Idem Qua 3 in cui non ci va Come 1, 2, 3 Sì Uno qua Questo implica appunto che sotto terra Non potrete mai far crescere Dell'erba sulla terra In mind test A meno che No forse Forse con una torcia sopra viene Se è illuminato Sì Ecco ho sbagliato Il blocco Infatti Ok Ok proviamo Così dovrebbe essere a posto Intanto qua Ci metto la torcia per far luce Ma forse In realtà dovrei fare O qua non riesco Vabbè Così O così Vediamo quale delle due verrà Comunque si è fatta di una notte E È passato Sono passati quasi 20 minuti Dovrebbe essere 19 e qualcosa Quindi io Innanzitutto vado a dormire Ecco il giorno Perfetto E dopo di questo E dopo di questo resterò a FK Per aspettare che l'erba cresca E invece noi ci vediamo al prossimo video Vi invito a mettere un mi piace Perché servono sempre un sacco i mi piace Voi non credete ma servono Quindi mettetelo Qua sotto Un mi piace Grazie Iscrivetevi E divertitevi Commentate Non lo so Fate quello che volete Però Un mi piace Grazie E al prossimo video Ciao Che ciao Mi è venuto male Scusa Ciao